All'Electrolux torna l'Incubo, nuovi tagli con il progetto delle aziende di riorganizzare la produzione. Porto Bufolai, nebbia killer, ciclista e vestita uccisa da un'auto, la vittima una commercialista cinquantenne. Atraviso dal lunedì al via all'ordinanza anti-smog, giro di vite per le deroghe, tolleranza zero della polizia locale. Come i dazieri dello Stato vogliono solo riscuotere, dito puntato degli artigiani contro i sindaci della marca. Il 7% dei trevigiani non riesce a pagare la rata del mutuo, consumi in calo, mali, piccoli negozi, a dirlo Ascom Treviso. Dino De Poli polemico contro chi contesta i costi delle mostre ai carreresi, lo fa nel giorno di presentazione dell'esposizione sull'India. Buonasera da Treviso, volevamo aprire con lo smog, invece ci tocca aprire con l'Electrolux, perché ci sono 2000 dipendenti a rischio per l'Electrolux in tutto il mondo. Questo nasce dal fatto che la multinazionale ha registrato nel terzo trimestre un calo del 29% sull'utile. Il 3% degli operai sono sicuramente a rischio, è già stata chiusa una fabbrica con 500 operai in Australia, mentre sono in osservazione sia Europa, Medio Oriente e Africa. Sono quattro le aziende in Italia che sono sotto osservazione, una di queste è Susegana, vedete le immagini, dove si parla di addirittura 300 posti di lavoro riorganizzati. Noi però a questo punto dovremmo avere al telefono il segretario della CGL, Giacomo Vendrame. Buonasera segretario. Buonasera, buonasera. Allora, intanto i dati sono confermati, ci sono rischi a posti di lavoro a Susegana? Beh, c'è molta preoccupazione, i dati precisi verranno in qualche modo… Si parla di 300 posti di lavoro, conferma? Beh, potrebbero essere molto meno e noi ci auguriamo che siano molto meno. Di certo c'è grandissima preoccupazione rispetto a una situazione che non ci voleva, cioè la messa in qualche modo in investigazione delle quattro fabbriche italiane con la possibilità che poi si arrivi a una riorganizzazione, a uno spostamento di quelli che sono investimenti e anche produzioni nel vero senso della parola. Segretario, la fermo subito perché adesso vorrei dalla regia, mi disse mandato in onda, invece la dichiarazione che ha lanciato oggi pomeriggio il governatore del Vento, Luca Zai, è proprio nell'ambito del caso Electrolux. Abbiamo passato questi tre anni a occuparsi di vertenze, siamo riusciti a garantire gli ammortizzatori sociali, però vogliamo garantire una prospettiva di lungo respiro ai nostri lavoratori e alle famiglie, in un contesto socio-economico non facile, nel quale abbiamo tagli di bilanci poderosi, perché noi lavoriamo con un terzo del bilancio rispetto a tre anni fa, e nel quale la nostra finanziaria regionale ha investito su 10.000 pratiche di sostegno alle imprese. Però non basterà, ma aiuta, certo è che il vero aiuto si deve arrivare da Roma con federalismo, autonomia, in maniera tale che rispondiamo noi i nostri lavoratori. Ecco, questo dice il governatore del Veneto. Segretario, invece il sindacato cosa ha intenzione di fare per questo caso Electrolux? Metterà in campo tutte le azioni possibili e anche di lotta, se necessario, per fare in modo che sia salvaguardata l'occupazione a Susegana come in tutto il resto d'Italia. È ancora presto per dirlo, nel senso che aspettiamo l'incontro di lunedì per capire bene di cosa si tratta, ci sarà un incontro sindacale particolarmente importante, si parla comunque di un percorso lungo e quindi vedremo di mettere in campo nel momento in cui avremo le idee più chiare tutto quanto necessario per salvaguardare le fabbriche italiane. Grazie segretario Giacomo Vendrame, ci risentiremo quindi lunedì per saperne di più e adesso cambiamo pagina. Perché, come abbiamo detto prima, volevamo partire con l'ordinanza anti-smog che da lunedì interessa il Comune di Treviso, ma anche tutti quelli che al Comune di Treviso ci passano, ci vanno a lavorare e quant'altro. Allora, oggi presentazione a Cassugana della linea rossa, anzi della Treviso rossa come colore, vedrete dalla cartina in apertura del servizio per capire dove non si può passare e soprattutto chi non può più passare. Ecco la zona rossa anti-smog, l'area che da lunedì sarà proibita ai veicoli da Euro 0 a Euro 2, più o meno quelli immatricolati fino al 2001. Non tutto il giorno, solo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30, mentre il primo blocco totale è già stato fissato per domenica 24 novembre. Un provvedimento che l'amministrazione ha adottato dopo che i recenti dati dell'ARPAF hanno sottolineato un elevato tasso di inquinamento nella città, uno sforamento costante dei limiti delle polveri sottili nell'area di Treviso. Da lunedì, come è stato sottolineato oggi a Casugana, con l'ordinanza saranno intensificati i controlli sulle principali direttrici verso la città e alla Polizia Municipale è arrivata l'indicazione di toleranza zero per chi prova a varcare la linea rossa. Così come dall'amministrazione c'è già stato un giro di vite sulle possibili deroghe come auto storiche, veicoli per alberghi e ristoranti del centro, ma anche pulmini per le scuole ed altri veicoli pubblici. Potranno invece passare taxi e automezzi per le emergenze. A tutti gli altri non resterà che pancheggiare l'auto all'esterno della linea rossa e utilizzare mezzi pubblici o, alla peggio, approfittare per una passeggiata. E di là della passeggiata vediamo adesso con Mirko Casteller di Confartigianato, grazie per essere con noi. Quali sono i numeri di chi starà a piedi? Voi avete gli artigiani che lavorano sulle auto vecchie, quindi meglio di voi non c'è nessuno. Insomma, che sa? Quali sono queste macchine? Diciamo che abbiamo stimato complessivamente un 600 mila veicoli in provincia di Treviso. Non pochi? Assolutamente no. E un 30% rientrerà in Euro 2. Quindi possiamo immaginare un 140 mila veicoli solo in provincia di Treviso. Stiamo parlando solo di automobili che saranno interessate al provvedimento. Voi avete anche un'idea per questi veicoli, giusto? Qual è? Assolutamente sì. La nostra proposta, la stiamo brevettando, è un kit che stiamo discutendo con il Ministero a Roma, di sostituzione dei motori tradizionali, quelli a scoppio, con motori elettrici. Ma questo è già funzionante in Germania, mi pare. Certo, assolutamente sì. E allora perché non lo facciamo? Perché le macchine vanno lì, le paghiamo e poi le importiamo. Ci manca un provvedimento nazionale, ci stiamo lavorando col Ministero direttamente. Mi pare che sia in discussione in Parlamento in questi giorni, o sbaglio? Assolutamente sì. C'è stato un gruppo di lavoro poco più di due giorni fa, dove la Confartigianato ha partecipato con i documenti ufficiali e grazie a noi sta nascendo questa nuova opportunità, non solo di lavoro per le imprese, ma anche di sicurezza per l'ambiente. Ma senta, quanto costerà 1.500 euro per cambiarsi la macchina? Ma complessivamente torniamo ai valori di un impianto a gas. Probabilmente cambiare il motore della macchina non supererà, almeno fra due o tre anni, 1.500 euro. Vediamo se abbiamo il sindaco di Treviso in linea. Ce l'abbiamo? No. Niente, non abbiamo il sindaco. L'avevamo invitato per rispondere di questa ordinanza, per parlare anche dell'elettrificazione, potremmo dire così, della città, ma è in riunione da quasi quattro ore, evidentemente è difficile da raggiungere. Grazie a Mirko Casteller. A questo punto invece ci spostiamo all'ASCOM, dei commercianti che oggi hanno tirato le somme del, se non sbaglio, terzo trimestre per quanto riguarda i consumi. E vi garantisco, non sono bei numeri. A Treviso consumi in cala del 7% rispetto allo scorso anno, si vendono meno abbigliamento, auto e gioielli, ma nei piccoli negozi, tra i consumatori, il 72% dei trevigiani non riesce ad affrontare spese impreviste, come spese mediche, riparazioni per la casa o per l'auto. Il 52% ha difficoltà a risparmiare, il 24% non riesce a pagare tasse e tributi, e il 7% il mutuo a casa. Fotografia scattata dall'osservatorio della Confcommercio di Treviso, partendo dall'analisi dei consumi del terzo trimestre corrente, su 500 soggetti intervistati. Ne emerge un quadro di paura e disorientamento, specie per il lavoro. Chi un lavoro ce l'ha, teme di perderlo nei prossimi mesi. A pensarla così un trevigiano su quattro. Tra i disoccupati, invece, quasi la metà, cioè il 48%, è convinto che non riuscirà a trovare lavoro. I pessimisti sono ormai la maggioranza. Tanto gli imprenditori del terziario, quanto i consumatori, mettono il lavoro in testa alle riforme più attese, in particolare la riduzione del cune fiscale per lasciare più soldi in tasca ai dipendenti, e più risorse per gli investimenti e le imprese. Per dare più soldi in tasca ai dipendenti e quindi rilanciare la domanda, gli investimenti, i risparmi, cioè rilanciare il ciclo che da troppo tempo langue. È un ciclo che langue perché ci sono sempre più tasse e oggi gli artigiani, invece, ci siamo spostati a Lappiani, hanno fatto i conti sulle tasse presenti e future. Attenzione perché c'è una scioglilingua particolare che ci porterà via bei soldi, ma vedete il servizio. Dovremmo trovarci in una provincia dove calano le tasse per il rifiuto e non aumentano come è successo fino a qui. È solo una delle stoccate di oggi dagli artigiani e sindaci della marca. A fondi sulla spesa pubblica, che il confrattigianato vede, accanto ad uno stato sprecone impossibile di contenere, sempre più comuni che aumentano tariffe e balzelli, quasi a copiare i palazzi romani. E lo fanno dati alla mano, con le amministrazioni locali che dal 1997 ad oggi hanno aumentato le tasse del 200% contro il 38% di Roma. E gli artigiani rincarnano la dose contro i sindaci che si nasconderebbero dietro un nuovo gioco di parole. A che fare? Si mette a protestare come gli altri con la carta d'avanti? No, avevamo commissionato un grafico, una cosiddetta nuvola di parole, un cloud, perché dopo uno studio di tasi, tarsi, trise, imu, tassa rifiuti, non ci capivamo più. E se non ci capiscono loro, figuriamoci i cittadini. Di sicuro comunque, secondo Giacomin, con il prossimo anno si pagheranno più tasse, soprattutto ai comuni. Cominciamo subito a dire ai comuni, fermatevi, non aumentate, sedete e riflettete e vedete di fare quello che non avete fatto fino a qui, cioè mettete assieme i servizi. Bella stoccata, devo dire, ai sindaci, non solo della marca, perché a quanto pare proprio questo nuovo scioglilingua ideato da Roma, ma utilizzato anche nella nostra zona, ci porterà via un po' di soldi in tasca. Ma adesso ci giriamo la pagina e andiamo a vedere qualcosa di cronaca. C'è un giro di auto riciclate che poi venivano rivendute. Pensate, chi ha fatto questo lavoro ci ha guadagnato sopra un milione di euro. Le auto di lusso rubate, poi riciclate come nuove, fruttavano ai malviventi quasi un milione di euro di guadagni, 800 mila per l'esattezza. Chi le comprava, a sua volta, risparmiava dal 30 al 40% del prezzo di listino ufficiale. 24 le auto rubate, BMW, ma anche Audi e Mercedes. Atreviso la mente del gruppo Ivan Baricevic, 25 anni, di Santa Bona, ora in arresto insieme ad altri due friulani. 31 denunciati, 24 le auto rubate in Italia all'estero e rivendute nelle stesse piazze. Macchine italiane, che illecitamente acquisite in Italia attraverso truffe o furbi, che venivano radiate per esportazione e rimatricolate in paesi esteri, così venivano ripulite. A dare il via alle indagini, la squadra mobile di Treviso. Documenti in regola e ignari cittadini ci sono caduti purtroppo. E così, dalle auto taroccate, poi rivendute, insomma un milione di euro, non è poco, ad altre notizie di cronaca, purtroppo con una brutta cronaca, il decesso di una donna questa mattina a causa della nebbia in quel di Porto Bufolè. Tre volte uccise a causa della fitta nebbia, mentre era in sella la sua bici, Maria Pessot, commercialista cinquantenne di Porto Bufolè, è morta dopo essere stata affalciata da una Y10, condotta da una 27enne di Sacile, che ha detto di non averla vista a causa della nebbia. Il dramma, questa mattina, presto, verso le 7 e 10, lungo la provinciale per Gagliarine. La commercialista era molto conosciuta da tutta la comunità, è stato Roberto, il marito, a riconoscerne la salma l'obiettore di Oderzo dopo aver appreso la notizia del sindaco. La commercialista lascia due figli di 20 e 17 anni. Un volo di oltre 20 metri dal ponte di Barbisano per cadere nel fiume Soligo. Non si esclude la caduta accidentale tra le cause della morte di Roberto Zuliani, 47 anni, disoccupato e senza fissa dimora, morto a causa delle gravi lesioni riportate dopo il terribile volo dalle 14 di oggi. A chiamare i soccorsi con l'arrivo dei vigili del fuoco alcuni passanti. Sul posto i carabinieri di Conegliano. Video hard con bambini trovati nel pc di un'insospettabile quarantenne di Conegliano. Stavo solo cercando di scaricare delle canzoni, avrebbe detto, ma di incastrarlo ben 5 file di materiale pedopornografico. Nonostante la giustificazione fornita, oggi il quarantenne ha preferito patteggiare 4 mesi di reclusione per cercare un accordo con la procura ed evitare un processo pubblico di fronte ad un giudice. Spacciava LSD in bicicletta per rifornire i suoi coitanei e pure minorenni. La droga nascosta in casa, in camera da letto e pure nel letto. Arrestato Puscher, 19enne di Pederoba dalla Guardia di Finanza di Treviso, già fermato sempre per droga anche lo scorso anno. Ora dovrà rispondere del reato di spaccio con l'aggravante dell'accessione ai minori. Signore, proteggici dai ladri di fiori. Così inizia un cartello nel comune di Maseri, anzi, al cimitero comunale di Maseri. Il perché, beh, è facile capirlo. Pare che spariscano i fiori e a questo punto la gente non sa più cosa fare. A questo punto addirittura è arrivata a pregare il servizio. Portano via Mari se serve o dopo li venderanno, non so. Io lascio tutto per portarli in fiori ai miei. Guardi cosa trovo. Signore, converti i cuori di chi ruba i fiori dalle tombe. È il cartello che si legge all'ingresso del cimitero di Maseri. Lo hanno appeso i fedeli esasperati dai continui furti. In questa vigilia dalle festività dei morti con cimiteri fioriti e addobbati con molta cura si moltiplicano i furti nei campi santi. Si ruba un po' di tutto da fiori ai vasi agli oggetti di abbellimento delle tombe. Portano via un po' di tutto diciamo che portano via anche le piante e lasciano lì il contenitore pur dalla fretta. Tempo fa ho visto le carte e ora sono restata male. Ho detto guarda che vergogna anche dopo morti vieni qua a fare queste robe. Video sorvegliare la zona al momento non è possibile. I cimiteri non sono nelle nostre priorità. In paese c'è anche chi parla di dispetti tra parenti di defunti in loculi vicini. I fiori diventerebbero il pretesto per in qualche modo attaccarsi. Sì ma a volte può essere anche qualche persona che lo fa inconsapevolmente. Vino prima che uno veda ma mia roba tua vabbè. In tempi di crisi anche il riposo eterno è messo a dura prova. Non più banche o attività commerciali. Visto i tempi che corrono ora si rivendono i fiori depositate sulle bare dei propri cari. Un fenomeno che ha sfuggito di mano i residenti portandoli letteralmente all'esasperazione. Certo non basta un cartello ad allontanare i ladri occorrerebbero più controlli. Insomma bisogna mettersi anche a pregare a questo punto pur di non riuscire a farsi fregare. E adesso invece giriamo pagina torniamo a Treviso perché oggi c'è stata la presentazione della nuova mostra dedicata all'India a casa dei Cararesi. È stato un motivo per cercare così di stuzzicare un po' il presidente De Poli su se è o meno interessante fare una mostra in questi tempi di crisi. Guardate cosa ci ha risposto. Ma in questo momento di crisi produrre una mostra di questo tipo non è volare forse un po' troppo alto. e cosa sa lei del costo della mostra? Quando lo saprà ripeterà la domanda. Stronca così sul nascere le polemiche sui costi delle mostre ai Cararesi e lo fa nel giorno di presentazione dell'esposizione sull'India l'ultimo della lunga serie iniziata con la Cina. Con quattro mostre dedicate alla civiltà cinese per duemila anni di studio e passando dal Tibet che è un aspetto soprattutto religioso diciamo spirituale era fatale che si dovesse capitare in India. Una mostra dai grandi numeri che Treviso spera corrisponda a grandi ritorni economici. Ma queste mostre tirano turismo e soprattutto tirano turismo che ci interessa? Assolutamente sì. Non è la distanza che forma il pubblico è quello che offriamo è il prodotto che offriamo. Io credo che abbiamo una provincia non di altissimo livello ma neanche di massa. Abbiamo bisogno di un target di turista che apprezzi il nostro territorio e soprattutto apprezzi i nostri prodotti. dalla A alla Z e che si porti a casa qualche souvenir non che vada a casa magari mangiando sui ristoranti cinesi ma pregusti e gusti della nostra casa terra e del nostro proseguo e via di cena. Quindi queste mostre possono essere un ottimo gancio per questo tipo di turisti? Lo sono lo sono sempre stato e a chi ho sentito da Presidente del Poli nonostante la credito lo saranno ancora. Presidente che dopo aver avallato questa nuova esposizione attende risposte dalla nuova amministrazione. Speriamo Speriamo o troviamo? O troviamo? O troviamo? O troviamo? O speriamo? O speriamo? O speriamo? O speriamo? O speriamo? Speriamo non è di speriamo cioè non speriamo. Una speranza che invece sembra più una delusione per la politica di oggi. Le cose che dobbiamo fare se non ispirano essere la politica la politica può ritirarsi. E adesso ispiriamoci alle previsioni del tempo con noi il generale Gianniccelli. Grazie per essere con noi. Com'è questo fine settimana? Abbiamo questa area di alte pressioni che protegge tutta l'Italia quindi abbiamo un tipo di tempo quasi estivo al sud da noi purtroppo nella pianura padana c'è quest'area che ristagna abbiamo avuto la nebbia ma siamo in pieno autunno ormai nebbia anche intensa che però si dissolve. Ecco questo sarà il tempo del fine settimana un fine settimana autunnale domani mattina nebbia che copre il cielo poi pian pianino abbiamo si dissolve quindi avremo anche delle schiarite a metà giornata e poi di nuovo copertura durante la serata. Per domenica è una velocità maggiore ma è sempre con possibilità di qualche schiarita. Cioè la mattina ripeto attenzione chi si muove ecco chi viaggia da questi banchi di nebbia questa nebbia che localmente può essere anche intensa. Con questa situazione poi con ripeto l'aria che ristagna abbiamo anche una temperatura mite minima intorno ai 15 gradi 16 gradi anche 17 gradi quindi alta e le massime che raggiungono e superano i 20 gradi. A seguito è già finito il timer del tempo è già finito il nostro tempo a disposizione. Chi va al mare ecco è bello pure il mare calmo. Grazie generale da Treviso per il momento è tutto grazie a tutti voi per l'attenzione e appuntamento ai prossimi appuntamenti col TG Treviso. Grazie a tutti i nostri spettatori